A Mistretta, l'ultimo dato, aggiornato ieri alle ore 18 sul numero dei cittadini positivi al Covid, recita che i contagi sono adesso 14, di cui due si trovano ospedalizzati presso i reparti Covid dell'ospedale Policlinico Universitario di Messina. In calo il numero delle persone in quarantena, che da 49 passa a 30. Fino a ieri, presso la sede dell'USCA di Mistretta, si è svolto lo screening di massa riservato a tutta la cittadinanza mastratina e adesso si attende l'esito dei tamponi per sapere se il numero dei positivi nel centro nebredeo è destinato a salire oppure ad arrestarsi. Sono sette invece cittadini contagiati a Santo Stefano di Camastra e cinque persone risultano in quarantena, secondo l'ultimo bollettino aggiornato e diramato dall'amministrazione comunale. A Pettineo si contano invece tre persone positive al Covid-19. Non risultano contagi invece nel resto dei comuni del circondario, a Motta da Fermo, Castelliluce, o Retano e Tusa. In tutti i comuni in cui si registrano casi positivi al Covid-19, si raccomanda sempre massima prudenza e di avere soprattutto atteggiamenti responsabili. Quindi utilizzare dispositivi di protezione, come la mascherina nei luoghi chiusi o affollati, di lavare spesso le mani con acqua e sapone o gel sanificanti, di evitare gli assembramenti e soprattutto se si è coscienti di aver avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid-19, di chiamare il proprio medico o l'asilo locale per sottoporsi a tampone. È una questione di salute e di convivenza civile.